ben ritrovati miei cari non volevo fare un video su questo episodio perché pensavo ci fosse ben poco da dire ma sono rimasto poi amareggiato per alcuni commenti che ho letto sui social fondamentalmente per due ragioni su cui vorrei invitarvi a riflettere stiamo parlando dell'omicidio di giulia tramontano 29 anni e incinta di 7 mesi da parte del fidanzato alessandro impagnatiello quest'ultimo aveva una relazione con un'altra ragazza e giulia l'aveva scoperto dopo l'omicidio ha cercato su internet qualche modo per fare sparire il cadavere dopodiché ha confessato probabilmente perché non pensava di avere altra scelta questo è a quanto ne sappiamo e ripeto c'è ben poco da dire si tratta di un delitto efferrato e di una grande tragedia la giustizia umana farà il suo corso nei suoi limiti senza purtroppo poter riportare indietro questa persona né elenire il dolore di chi le voleva bene e li avrebbe voluto bene ma veniamo a quelle reazioni e commenti che io ho trovato inquietanti molti hanno cominciato come al solito a dire in galera buttiamo la chiave deve soffrire tutta la vita affinché non ci saranno pene esemplari non si risolverà niente e via dicendo fino a invocare la tortura e la pena di morte bene vorrei farvi rispettosamente notare che voi non state tanto bene che queste cose che voi invocate non servono e non sono mai servite non serviranno mai a niente che questo episodio di cronaca nera è solo un pretesto per sfogare dell'olio che dentro di voi e trovo particolarmente meschino approfittare di questo momento di dolore per propagandare idee deteriori che porterebbero la nostra civiltà verso una deriva dispotica che non augura nessuno e che poi colpirebbe per primi proprio gli innocenti quando c'era la santa inquisizione con le torture medievali documentatevi molte delle vittime erano proprio delle giovani ragazze innocenti come giulia alcuni addirittura hanno sostenuto che in questi casi non si dovrebbe nemmeno difendere l'imputato e che il suo avvocato dovrebbe vergognarsi perché la vittima avrebbe potuto essere sua figlia sostenere una cosa del genere vuol dire non avere la minima idea di cosa sia uno stato di diritto ma che assurdità è gli avvocati dovrebbero difendere solo gli innocenti o solo le brave persone e allora cosa ci stanno a fare cosa ci stanno a fare processi dai ma come si può dire cose simili ma non commento neanche più basta altra cosa importante ho visto ovviamente migliaia di commenti indignati più contro l'assassino che a favore della vittima e già questo la dice lunga e quasi nessuno che si chieda perché succedono certe cose e cosa possiamo fare noi per evitare che certe cose si ripetano in futuro come se eliminato il cattivo la mela marcia estranea il male venisse esorcizzato il problema sparisse e noi possiamo dirci un l'uno con l'altro quanto siamo buoni e perfetti ora in effetti questo singolo episodio è diverso dal classico episodio di stalking dove per esempio il maniaco perseguita l'ex fidanzata per anni alla fine la uccide ma è sempre anche questo caso in qualche modo figlio di questa mentalità di questo clima malato pieno di omertà una ragazza che conosco molto bene ha subito stalking da parte del suo ex fidanzato per anni più volte ha tentato di denunciare la cosa senza riuscirci una volta un suo amico la stava andando a trovare ha incontrato l'ex nascosto nell'androne dell'edificio c'è stata una collottazione quando lei ha detto andiamola a denunciare insieme questo si è tirato indietro perché è non voglio grana e poi deve sapere la mia ragazza bene supponi che questo tipo fosse andato avanti avesse ucciso l'ex o un'altra ragazza ora con quale faccia tu verresti a scrivere nei commenti schifoso in galera e buttare via la chiave se tu per primo sei suo complice e tutti quelli che le dicevano è però poverino l'hai lasciato e non dovevi andare con qualcun altro solo pochi giorni dopo in qualche modo giustificando il suo comportamento mi fermo a questo esempio ma spero che abbiate capito il concetto vedete se io mi occupo da anni assiduamente di cercare di estirpare una certa mentalità dalla testa delle persone è perché lo faccio per una ragione in cui credo per questo ad esempio difendo la libertà di ogni donna di mostrare il proprio corpo come vuole e sono contro chi le dice che dovrebbe vergognarsi per questo per questo dico che se la tua ragazza esce da sola tu non hai alcun diritto di seguirla di farle il terzo grado di spiarle il telefono e che se lo fai sei malato di mente per questo cerco sempre di sdrammatizzare le cose quando si parla di sesso di famiglia di tradimenti perché voglio contribuire alla creazione di un clima più sereno dove certe folli pulsioni vengono in qualche modo stemperate non esasperate dalla mentalità malata che c'è oggi sessuofoba misogina forcaiola e superficiale quindi pensiamo noi tutti in prima persona giorno dopo giorno a dare il nostro contributo per creare un clima più sano e più sereno anziché invocare chissà quale pena esemplare o di concentrarsi ora sul singolo assassino lui è un efferato delinquente che sconterà la sua pena nelle patrie galere e rispondendo alla sua coscienza lo sappiamo è chiaro invece di ripeterlo diecimila volte facciamo noi qualcosa in concreto per cambiare le cose creando un clima più sano e sicuro per tutti io ci sto provando fatelo anche voi troppo facile fare post piene di banalità e beccarsi like mi fermo qui vai un saluto a tutti e alla prossima ciao 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 ciao